e bene a tutti ragazzi e ragazzi sono il vostro caro mastro king e benvenuti in questo secondo episodio della skyblock plus allora sono cambiato un po di cose dall'ultimo episodio innanzitutto sono spawnato le mucche e ho messo a fare un po di charcoal per poter andare a fare le varie torce ho allargato quel ponte e comincerò ad allargare quello che va verso il nether ho fatto una fonte d'acqua infinita e ho tolto tutta la sabbia dall'isola di sabbia e dentro questa cesta qui ci stanno 20 pezzi di ossidiana il che è cosa buona e giusta ora sicuramente andrò a piazzare questa cesta qui e a posare l'ossidiana e andare a prendere questi pet blocchi qui per andare a completare alcune missioni direi di andare subito ok la prima che incontriamo è questa qui 64 wood plank non mi fa aprire cesta di qua si e di qua no perché non ne ho idea niente si è buggato il mondo o meglio il mondo la parte del monumento ok ora neanche questi si aprono più però queste di qua sembrerebbe di si ora si è quella giusta no ha smesso di aprirsi pure di questa di qua ok ok tu ti apri ok pure tu e ci da un indizio che ci ok guarda la l'isola del nether ci sono sorpresa per te tutto qui ok questo è quello dei 10 pezzi di terra e ci da alta terra e di grass block costo in totale 12 pezzi direi ci andrà bene questo è della pumpkin non ci interessa jack o lantern stessa cosa meron identico e meron block cerca well della sabbia ok eccola e ci da i red sand 5 pezzi non so cosa ci può essere dire da red sand però ho messo la sand sonna guarda magari la faccio ora al volo rossa magari è quella che vuole no perché sto perdendo fame se in teoria devo essere in adventure mod quanto pare si è bugata la mappa di nuovo non so non so il perché ora direi di posare questi blocchi qui e di andare sull'isola del nether diciamo che per il momento quelle mucche che stanno lì non le vorrei far fuori perché le vorrei far accoppiare ah ok c'è le un ender c'è non chiedetemi l'utilità però sta di fatto che ci sta ok direi sicuramente di quest'oggi di andare a vedere come è fatto il il nether quindi direi tornare momentaneamente a casa casa per modo di dire e andare a prendere il anzitutto l'ossidana e anche la spada comunque off camera tra questo e il prossimo video direi di che mi metto a farmare un po' di diciamo un po' di cibo quindi mettere a piantare un po' di roba ok ok un due tre quattro cinque ok si c'è dalla cesta lì ci deve andare giusti giusti per farmare ok il portale per ora ci sta non credo ci sia la una possibilità di fare nether brick di di fare flinta almeno non per il momento uh ho pure un cavallo e un maiale allora sicuramente prendo un pezzo di sandstone magari a questo giro decidi di darmi la missione almeno spero no questo è meno un blocco che è bello questo era quello della sand e ora dovrebbe essere quello della sandstone ok e ci dà cinque cisele del sandstone qui c'è quella di cattus super canes 68 rotto in flash quindi sicuramente dovremmo fare il mob spawner quindi tutte le cose che si ottengono dal mob spawner uno yellow bed cinque leather uno bookshelf ok le muscolum so paro nugget lingot ok leaves ah fuseli quella finale ok questa dovrebbe essere quella più difficile il beacon infatti l'elitra dragon head questo potrebbe essere un problema forse yellow shulker box endrod chorus plant dragon egg quella si trova tranquillamente e ovende 12 quindi dovrò fare pure una farm di enderman endstone oddio di enderman magari non farm farm ma più che altro basta andare in land a farne fuori qualcuno emerald block blocco di doro quello di golden apple lingotto d'oro golden nugget ok un wither ok una testa del wither scheletro due goal block addirittura blaze powder blaze rod questa sarà bella lunga nether ward block io quello penso di poterlo già mettere ok intanto è diventato buio e direi momentaneamente no non volevo farlo fuori più che altro volevo semplicemente cioè tanto si volevo farlo fuori ma non in quel modo si ok nether ward block il che è cosa effettivamente molto molto positiva così in poco tempo abbiamo fatto pure un'altra missione quindi diciamo che oggi ne abbiamo fatte veramente 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 tante di di missioni ok questa sicuramente sarà l'ultima per oggi quindi observer red compare 4 5 nether rack qualcosa l'avevo presa quindi direi sicuramente di andarle a recuperare no 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 do Grazie a tutti